Punta il suo avversario, cerca di andare al cross e lo fa bene E come l'Udinese, all'ultimo respiro si rivela Il migliore campionato possibile con Danilo, il suo capitano 120 anni di compleanno, è andato in così, con Danilo All'ultimissimo secondo Udinese 1, Boragio 0 E dunque il ruolo, ok? Difessore